benvenuti a cavuccio frazione di teramo dimenticata ormai da tempo immemore senza considerare che questi aggiustamenti questi aggiustamenti li hanno fatti i restamenti proprietari capito la scuola abbandonata ecco il terreno come abbiamo un ingresso noi ogni tanto di circolamento lo fanno lo facciamo noi facciamo va giù la strada è pulita che io praticamente abito lì è pulita perché la puliamo da sole le siepe e tutto quanto i residenti puliscono la strada da sole non basta nemmeno terreno ambiente perché se passassero ogni tanto la spazzola ricerca loro già hanno un contratto che devono passare tante volte all'anno praticamente non ci passano ma è pulito perché ci passano vedere il paese anche dopo ecco il solito discorso rifacciamo il foglietto prioritario questa qui era stata chiusa col terremoto l'hanno riaperta senza nessun problema righiere rotte non a norme ecco nei tempi di quando si presentano pure i chiodi praticamente che non è a norma che ci può cadere un bambino riverniciate e risaltate da noi tutto è pulito perché ci puliscono sempre gli abitanti e questo è il pezzo della chieda guardate qua che siamo in un paese civile